Il Tribunale di Arezzo ha respinto la proposta di concordato preventivo presentata e così per la cooperativa la Castelnuovese si apre lo spettro del fallimento. La storica azienda del Valdarno Aretino per anni era stata un punto di riferimento nel settore edile. Preoccupazioni ovviamente per i 50 lavoratori che da luglio finiranno in disoccupazione. Sono già stati nominati due curatori fallimentari che avvieranno l'iter. L'azienda fallisce con un debito di circa 40 milioni la maggior parte verso le banche scoperti di cassa per 13 milioni a breve termine e finanziamenti per tre a lungo termine. Nel periodo d'oro la Castelnuovese era stata guidata da Lorenzo Rosi, ultimo presidente di Banche Trudia prima del commissariamento. Rosi, colpito dall'inchiesta della procura di Arezzo sul crack dell'Istituto di Credito Aretino, è stato al timone della Castelnuovese dal 1995 al 2014. L'azienda ha realizzato il villaggio delle griffe in Valdichiana, il polo logistico di Prada. Si apre così un periodo buio per i 50 lavoratori che da luglio finiranno in disoccupazione ma anche per l'intera vallata. L'azienda infatti per anni ha rappresentato un volano per l'economia del territorio valdarnese.